Buongiorno a tutti. Allora, 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 prima di farvi, che sono pronte, sono qua belle pronte, le bollette per le gare di questa sera, i tre anticipi campionato francese-italiano-tedesco, tre partituccole, c'è da fare il riepilogone per quanto riguarda il campionato spagnolo e inglese che hanno avuto il turno infrasettimanale. Quindi, geograficamente parlando, si inizia con il campionato spagnolo che ha esordito martedì con il pareggio 1-1 tra Siviglia e Valencia e tra l'altro il Siviglia è rimasto pure in 10 al 91esimo, vabbè, gol di Cavani per il Valencia e pareggio proprio quasi allo scalere di Lamela, ancora vivo Lamela, il buon Eric Lamela all'88esimo l'ha messa e ha beffato la squadra del buon Rino. Molto più interessante è la sfida che si è giocata, no scusate, andiamo con calma. Molto più interessante, dicevamo, la sfida tra Getafe e Atleti Bilbao terminata 2-2, queste sono le sfide che ci piacciono, ci piacciono anche gli 1-1, però 2-2 è ancora meglio, che così è un over to goal che ci fa l'Ibibine. Sorpresona, sempre martedì, l'Atletico Madrid non va oltre il pareggio 1-1 con questo sorprendente Raio Vallecano, poi andremo a vedere anche la classifica. E mi sa che Simeone che continua a piangere, che vuol venire all'Inter, è meglio che stia dove sta, perché così almeno viene a fare disastri, che a noi va bene il nostro Pippo Pippo, no il nostro Simoncino. Pippo Pippo lo lasciamo alla regina. Il Magliadolid si mangia letteralmente il Celtavigo vincendo 4-1, poi abbiamo uno squallido pareggio 0-0 tra cadici e Betis, però bisogna dire che il Betis no, non ha neanche la scusante, perché è rimasto in 10 al novantesimo più recupero, quindi il Betis figura un pochettino, come si può dire, da curucù, da curucù. Un punticino, questo è un punto, sono due punti persi, potrebbero essere sicuramente due punti persi col cadice, perché non penso che le altre squadre che lottano per un posto in Champions si lasceranno sfuggire la vittoria, poi vedremo. La Real Sociedad non senza difficoltà batte solo 1-0 il Mallorca, signori, 1-0. Però la cosa buffa è che ha insegnato subito nei primi minuti, quindi metti già la partita sulla giusta binario, sei in vantaggio dopo 4 minuti, hai 86 minuti di tempo, cosa fai? 1-0 così, che poi l'1-0 è sempre un risultato rischioso anche se giochi contro una squadra di curucù, perché l'errorino, la cavolatina, la stupidatina, il cornerino malefico, prendi gol e lo prendi nel puli-puli, però gli è andata bene, la Real Sociedad porta a casa tre punti pesanti. In Real Madrid si mangia come era previsto l'Elce 3-0, fuori casa. Molto più interessante, eccola qua, la sfida libidide tra Almeria e Girona, una sfidona veramente molto 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 bella, con l'Almeria che va sul doppio vantaggio, si porta sul triplo vantaggio, sul 3-0 incredibile, al 38esimo minuto erano già 3-0. Nella ripresa si risveglia, il Girona dice proviamo a recuperare, pronti via inizio secondo tempo accorciano le distanze, poi però il gol del 3-2 arriva solo all'83esimo e non c'è più tempo tra virgolette per fare il 3-3 che sarebbe stato clamoroso e poi magari l'allenatore dell'Almeria se facevano 3-3, anzi del Girona scusate, se facevano 3-3 faceva come Mazzone e correva sotto la curva a dirgli, eh ho fatto 3-3, ho fatto 3-3, in stile Mazzone in un Brescia, Atalanta-Brescia di tanti tanti anni fa. L'Osa-Zugna, la squadra che io simpaticamente amo e odio, odio, odio soprattutto, vince 1-0, un risultatino, gol nel secondo tempo, però se non altro ha segnato al decimo del secondo tempo, dai li perdoniamo, li perdoniamo per quello, ha segnato? Sì al cinquantacinquesimo minuto, quindi al decimo del secondo tempo allora dai diciamo che può andar bene l'1-0, tra virgolette. E infine concludiamo con il Barcellona che nel primo tempo chiude subito la pratica Villareal con tre pere e poi dopo non vuole infierire, si accontenta del 3-0 con doppietta del buon Lewandowski che, signori miei, questo dovunque lo metti il gol lo fa. e dopo avervi dato i risultati andiamo a vedere la classifica. Il Real Madrid avendo vinto ancora resta sempre in testa la classifica, seguito a tre punti dal Barcellona che potrà naturalmente recuperare quei tre punti nella gara di ritorno, nel girone di ritorno, quando il Real Madrid dovrà andare a giocare al Camp Nou e vedremo se gli restituiranno il 3-1 dell'andata perché il Real Madrid giusto dove la settimana scorsa ha vinto 3-1, il classico però al Bernabeu. La Real Sociedad è a 22, l'Atletico Madrid è a 20 e il Betis è a 20. Vedete le due squadre che hanno fatto il curicù, si vedono la Real Sociedad che mi fa ma ciao, ma ciao, io vado al terzo posto e voi vi giocate il quarto. Poi attenzione all'Atleti Bilbao a 16, no a 18 scusate, che è lì, è lì, quest'Atleti Bilbao che non ti aspetti a 18. Osasugna a 16, Valencia del buon Rino Gattuso a 15 in ottava posizione. In zona Europa diciamo, è un po' lontanella ancora, però sono tre punti è dalla zona Europa. Tenendo punto poi che la squadra che vince la Coppa Italia, perché vale anche per loro il discorso della Coppa Italia, della Coppa di Spagna, chi vince la Coppa di Spagna va in Europa League, se è una delle prime sei, la settima va in Conference, quindi è assai probabile che anche arrivare settimi potrebbe voler dire Conference. Comunque il Valencia è a pari punti con il Villareal a 15. Poi abbiamo diciamo le squadre che io considero quelle del vorrei ma non posso, ma preferisco stare a distanza dalla zona pericolo. Raio Vallecano decimo a 12, Bagliadolida a 11, Siviglia, Almeria e Celtavigo a 10, ma il Siviglia dovrebbe stare un attimino più su e mi auguro che riesca a recuperare qualche posizioncella, sarà dura però deve provarci. A nove punti troviamo il Mallorca con l'Espagnol e il Getafe e sotto quella linea lì del Getafe ma è a pari punti con Mallorca ed Espagnol, quindi queste sono squadre tutte e tre a rischio perché a otto punti, diciottesimo troviamo il Girona, a sette punti il Cadice, per quello vi dicevo quel pareggio lì sarà abbastanza deleterio per il Betis perché mi pareggi con la penultima in classifica, con tutto rispetto per il Cadice naturalmente. E poi l'Elce che sembra ormai condannata all'ultima posizione perché non si sta schiodando da questi tre punti. Andiamo a vedere nel weekend se c'è qualche partita di cartello. Abbiamo una bel Raio Vallecano-Cadice, Valladolid-Real Sociedad, Valencia-Maiorca, Real Madrid-Siviglia, questa è una partita molto importante sia per l'una che per l'altra. Per il Siviglia per cercare di rimanere a galla, come si suol dire, portare a casa un pareggio da Madrid sarebbe ossigeno allo stato puro, sarà molto molto difficile. Poi abbiamo Espagnola-Elce, Betis-Atletico-Madrid, questa sì è una sfida di cartello. Questa sì è veramente una sfida di cartello con l'Atletico-Madrid che dovrà cercare di non perdere contro il Betis-Siviglia, anche a causa del pareggio che ha fatto in casa. È vero che comunque giocavi col Valencia, no, non giocavi col Valencia, giocavi, eh, signori miei, l'Atletico-Madrid mi ha fatto un pareggio con Raio Vallecano. Quindi col Betis serve un minimo il pareggio per non trovarsi poi troppo troppo distanti appunto dal Betis e vedere le altre squadre che sono lì nella tua zona che ti prendano, ti sorpassano e ti spediscono in quinta e sesta posizione. Girona-Osasunia, Villareal-Almeria, Barcellona-Atletico-Bilbao, anche questa partita interessante contro questo sorprendente Atletico-Bilbao, e infine Celtavigo-Ghetafe lunedì la partita del Monday Night. Quindi diciamo che la partita libidine-Betis-Atletico-Madrid, Barcellona-Atletico-Bilbao e Real Madrid-Siviglia sono le tre partite clou della giornata. con naturalmente le squadre di casa favorite, poi tutto può accadere. Detto questo passiamo al campionato inglese perché appunto martedì, mercoledì e giovedì si sono giocate un po' di partite. Si è iniziato molto male con un pareggio 0-0 tra Brighton e Nottingham Forest. Il Nottingham Forest, signori, si sta svegliando. Piccoli passi, piccoli accenni di vita di questa squadra neopromossa, che però passo passo punticino per punticino, Vittorietta così, sta cercando di allontanarsi dalla zona bassa della classifica o comunque giocarsela fino alla fine. Mentre invece sembrava all'inizio che fosse già condannata a tornare in Championship. Il Crystal Palace batte 2-1 il Wolverhampton. Arsenal-Manchester City si dovrà giocare successivamente. Il Southampton batte 1-0 il Bonnemouth fuori casa. Il Liverpool, che prosegue la sua lenta risalita, batte 1-0 il West Ham. Il Brentford matricola terribile, malefica, blocca sullo 0-0 il Chelsea. Il Newcastle batte 1-0 l'Everton e prosegue questa sua salita verso le zone europee della classifica. Non si sa se andrà in Conference in Europa League o farà il miracolo di andare in Champions, ma questo Newcastle dei nuovi proprietari sta facendo un buon campionato. Lo United batte 2-0 il Tottenham del buon Conte, bloccandogli la salita ai primi posti e vedendosi anche in grave dangerous il terzo posto. Il Fulham batte 3-0 l'Aston Villa, che però resta in 10, signori miei, a metà secondo tempo. Quindi al sedicesimo, diciassettesimo del secondo tempo, il solito David Luiz che si fa espellere. Non è la prima volta che David Luiz si fa espellere. Comunque si era già sul 2-0 per il Fulham, quindi non c'è da dire no, ma l'Aston Villa è rimasto in 10 e poi ha preso i punti. Proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo con l'ultima partita. Il Leicester, anche lui, si sveglia, batte 2-0 il Leeds e, signori miei, chissà che fosse la volta buona che il Leicester si rimette in carreggiata e non dico che vada in Europa perché ormai la vedo molto molto difficile, ma almeno riesca a portarsi verso le zone tranquille della classifica perché il Leicester City, dopo tutto quello che ha combinato, tornare in Serie B o in Championship, per essere precisi, non sarebbe tanto carino. Detto questo andiamo a vedere la classificona che vede sempre l'Arsenal, nonostante non abbia giocato, in testa 27 punti. City e Tottenham restano a 23 anche perché il City non ha giocato con l'Arsenal, quindi per quello. Il Tottenham invece ha perso, però nonostante la sconfitta, il fatto che il Chelsea abbia fatto 0-0, lo mantiene tranquillamente al terzo posto a pari merito, o meglio al secondo posto a pari merito col City, ha 23 punti e con tre punti di vantaggio sul Chelsea, tenendo conto che vanno le prime a quattro in Champions, quindi anche se arriva a quarto è uguale. Lo United sale a 19, però è in quinta posizione. Il Newcastle è a 18, quindi in piena zona Europa. Il Liverpool è subito dietro a 16, sta risalendo anche il Liverpool, però ragazzi miei, 16 contro 27 con un Arsenal che deve ancora recuperare. Certo, la partita con il City, però il Liverpool comunque anche lui ha una partita da recuperare, quindi potrebbe andare a 19 e quindi più o meno sono alla pari. Il Brighton è a 15, in ottava posizione questo Brighton a 15 insieme col Fulham. Fulham e Brighton sorpresine del campionato. Il Brentford anche quest'anno fa la matricola terribile, è in decima posizione abbastanza tranquillo direi, a 14 punti. Crystal Palace e Bornemoff a 13, West Ham e Southampton a 11, in tredicesima e quattordicesima posizione, poi tredicesimi alla pari. Leverton è a 10, quindicesimo. Il Leeds è sedicesimo con l'Aston Villa e il Wolverhampton, però in questo momento per la differenza reti il Wolverhampton sarebbe diciottesimo con 9 punti, a pari con l'Aston Villa e l'Itsma con una differenza reti peggiore, quindi andrebbe in Championship. Il Leicester sale a 8 e il Nottingham Forest è a 6, però è lì, ci prova. Qualche partita comincia a non perderla, però è sempre ultimo. Speravo fosse più in alto e invece è sempre lì a 6 punti in ultima posizione, però ragazzi miei 6, 8, 9, 10, sono lì, non è che 6 ha 20 punti dalla quart'ultima, 6 ha 3 punti dalla quart'ultima e ce ne sono anche sì altre due a fare le quart'ultime per intenderci, oltre alla terz'ultima, cioè sarebbero tutte terz'ultima ma per differenza reti, però sono tutte a 9. Andiamo a vedere il prossimo turno se c'è qualche partita di cartello, aia, Nottingham Forest Liverpool la vedo dura per il Nottingham. Poi abbiamo un Everton Crystal Palace, un Manchester City Brighton che è interessante, questo Brighton potrebbe mettere in difficoltà il City, non esageratamente, però un pochino sì. Poi c'è un Chelsea Manchester United da libidine, questa sì che è una sfida di cartello, United che si gioca la posizione col Chelsea, sono lì vicine vicine, punto di differenza. Quindi chi vince sorpassa l'altra o si allontana nettamente dall'altro, in caso di pareggio rimangono così e fan felice quelli che sono dietro a inseguire. Poi abbiamo Wolverhampton Leicester City sfida da bassa classifica, Aston Villa Brentford sfida da medio-bassa classifica, Southampton Arsenal speriamo non finisca 0-7, Leeds Fulham alta sfida da medio-bassa classifica, Tottenham Newcastle sfida invece da alta classifica, medio-alta diciamo, cioè il Tottenham è lì in alto, Newcastle è lì vicino vicino. E infine si conclude la giornata col Monday Night, West Ham Bornemov sfida diciamo da medio-bassa classifica. Quindi direi che la partita di cartello sicuramente Manchester City Brighton tra virgolette, sicuramente Chelsea Manchester United da libidine, sabato alle 18.30, cioè sabato alle 18.30 c'è un Chelsea Manchester City da doppia libidine coi fiocchi. Detto questo ragazzoni, io vi saluto, vi ringrazio, vi ho fatto il riepilogone del campionato spagnolo e inglese anche in vista della prossima giornata e ci vediamo naturalmente al prossimo video che riguarderà appunto le schedine e bollettine del Gigione per le gare di questa sera. Come sempre, ciao!